Sono il dottor Donverhost. Tu avevi dolore alle anche, è vero? Perché continuavi a dimenarti di notte. E avevi anche problemi alla prostata perché ti svegliavi sovente la notte. Io notavo che tu non ti svegliavi più la notte. Sì, effettivamente uno potrebbe mettere i cerotti per settimane, anche per mesi, e dire ma non cambia niente, non so cosa stia succedendo. Io ad esempio per cinque settimane non notai niente, dissi a Susan non vedo nessun cambiamento. E lei mi disse ma non vedi che non ti svegli più due o tre volte alla notte per andare in bagno? E quindi sì, Urca, mi rendevo conto infatti che c'era questo cambiamento. E ho un'energia incredibile. Non l'energia della caffeina, l'energia nervosa, diciamo, ma una specie di energia molto della gioventù proprio, un'energia giovanile, insomma. Un'energia che non ho sentito da più di vent'anni.